E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi, condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete, seguite Surfersport su Instagram, pagina esiziale, mi raccomando seguitela a tutti, video devastante signori, poppet, pontatine, situazione, sentenze, guardate i video fatti in precedenza, la live di ieri da pisciarsi addosso con i ragazzi di Safri, il video col vitale, i signori, devasto puro e prima di cominciare della vile annuncistica, vile annuncistica, prendete appunti che anche qui c'è di che fomentarsi. Allora, mercoledì ore 21, per abbonati base signori, vi faccio questo, vi faccio questo fomento, live di Cattu Ufologia con Vincenzo D'Amico, ok? Autore del libro Story and Abduction, ok? Facciamo una live di ufologia pura e devastante, mentre giovedì ore 18, per abbonati intermedi signori, video di consigli cinematografici, 5 consigli, 5 di Cattu Cinematografia per 5 film signori nostri, che mi ringrazierete di avervi consigliato, ok? Segnatevi questi appuntamenti che sono fondamentali, vi ripeto signori, attenzione, poi questa sera alle ore 17.30 sarò live sul canale di FanRating per parlare di Nazionale e commenteremo anche la partita dopo quando giocherà l'Italia. Allora, iniziamo subito che ce ne sono di tutti i colori. Partiamo con la grana Dragoschi e con la Fiorentina, perché quest'oggi su Fiorentina.it è uscito l'articolo secondo cui Dragoschi, per rinnovare anche lui il contratto in scadenza nel 2023, chiederebbe 2 milioni all'anno per appunto rinnovare il contratto. Allora, io vi dico, non è un portiere che mi dispiace, perché sicuramente Dragoschi ha delle buone qualità, è paradossalmente più bravo nei tiri ravvicinati, a volte fa dei miracoli devastanti, penso ancora alla parata che fece in Fiorentina e Inter l'anno del gol di Vlaovic partendo dalla sua area, a volte ha di queste cose, però a volte anche dei passaggi a vuoto che fanno riflettere, ok? Hashtag riflettiamo. Quindi è un buonissimo portiere, sicuramente oggettivamente un buonissimo portiere, che mi vedrei benissimo in una Premier League, per esempio in un Wolverhampton, per esempio in una squadra di questo tipo con qualche ambizione di medio-medio-alta classifica a lungo termine, anche in un Everton, in un Brentford, signori. Però ecco, diciamo che se dovesse essere ceduto ad una cifra buona, per esempio una quindicina di milioni, 18 milioni, se sei bravo una ventina di milioni in mercati per l'appunto dove queste cifre possono essere richieste, diciamo che un Continental Breakfast, poi tutto sommato me lo farei lo stesso. Abbiamo Terracciano come secondo, che è un ottimo portiere, poi possiamo eventualmente andare a prenderne un primo in estate. Questo per dire che spiace, perché onestamente se vi ricordate erano usciti casini, problemi, anche nel primo rinnovo di Dragoschi, quello che si scelse di fare nell'estate in cui lo si andò a pontatinare come primo portiere della Fiorentina. C'erano stati problemi su rinnovo, casini e via dicendo. Quindi sarebbe la seconda volta che vengono fuori queste questioni. Io vi ripeto, non è che mi dispero se va via Dragoschi. L'importante è che ci si guadagni il massimo. La scadenza al 2023 può permetterti comunque di recuperare qualcosina. Spiace perché piove sempre sul bagnato, ma non si piange sul latte macchiato. E quindi signori, succeda quel che succeda su Dragoschi. L'importante è che non si vada su Cragno, come già leggo, perché a me come portiere veramente piace pochissimo Cragno. Quindi lì nel caso pontatineremo a parte, se questa questione dovesse poi venire fuori definitivamente, ma ripeto, piuttosto che Cragno, preferisco promuovere Terracciano a primo portiere. Basti già questo. Ma con tutto il rispetto per Pietro Terracciano, che noi siamo delle bimbe di Pietro Terracciano. Poi veniamo al discorso dell'attaccante. Si parla di questo Borca Majoral con insistenza alla Fiorentina. Ci sarebbero addirittura già dei contatti. Lui sarebbe contento di venire. Ma in realtà io vi dico, Borca Majoral è un buon attaccante. L'anno scorso ha fatto 17 gol al primo anno in Serie A. È vero che molti li ha fatti in una singola partita o a squadra di secondo piano. Ma a me piaceva. L'anno scorso mi ricordava un primo Higuain, per certi versi. Non è un giocatore da buttare via. Borca Majoral non mi dispiacerebbe. Quindi non male. Not bad, signori. Però, 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 manca. Visto che ovviamente sono tutti nomi che vengono fatti in vista di una partenza di Vlaovic. Se va via Vlaovic e prendi il solo Borca Majoral mi sembra un po' una comfort zone. Devi preallertarti. Bisogna preallertarsi con un elemento giovane. Vorrei del piano giovani, capito? Se siete d'accordo con me nei commenti hashtag vorrei un piano giovani. Gori, per esempio, vai a prendere Borca Majoral e scegli di dare fiducia a Gori portandotelo a casa e l'anno prossimo hai un attacco Borca Majoral-Gori come, tra virgolette, nuovo Vlaovic da lanciare sul mercato. Non sarebbe male. Oppure, come scrive Fiorentina.it quest'oggi, Scamacca che sarebbe il preferito per il post Vlaovic. Ecco che allora mi vai a costruire un attacco Borca Majoral-Scamacca. E beh, signori, buttalo via. Buttalo via. Sei veramente in una botte di ferro. Sei in una botte di ferro. Quello sarebbe il non plus ultra. Anche perché, vi ripeto, i soldi credo ci saranno quest'estate per costruire una Fiorentina, insomma, di un certo livello. E penso che se quest'anno già faremo un campionato buono ci sarà poco di che poi andare a tentoni, vedere questo. Ma prima, insomma. Quindi, vi ripeto, Borca Majoral non mi dispiacerebbe. Però, meglio anche avere alle sue spalle o assieme a lui, non perché sia vecchio, ma proprio per aumentare la batteria di soluzioni anche fatte in casa e la futuribilità anche un elemento giovane. Che può essere Gori, ma potrebbe pure essere uno Scamacca che, signori, non sarebbe male. Andando a prendere Scamacca daresti anche un grande segnale a livello di quella che è la tua presenza per quel che riguarda le giovani promesse, le giovani leve, le giovani situazioni della Serie A, come vi ho spesso detto. Passiamo all'Inter. A me fa onestamente sorridere il fatto che Di Marco ha fatto l'ego Di Marco che chiede un ritocco dell'ingaggio, un aumento. Cioè, hai fatto quante? 3-4 partite all'Inter e già chiedono aumenti di stipendio. Ma vabbè, lasciamo perdere. Poi c'è questo, c'è il paneggirico, c'è il paneggirico. A parte le dichiarazioni di Bellinazzo ieri anche che ha parlato della questione di PIF e ha ripetuto cose che vi avevo detto anch'io. Soprattutto mi è piaciuto il passaggio quando ha detto c'è una campagna denigratoria, per certi versi interessata nei confronti di PIF. Sono stato l'unico a farvi presente questo. Ieri mi ha fatto piacere che il buon Bellinazzo ne abbia parlato. Ma detto questo, veniamo anche al buon Brozovic. Perché tutti parlano di questo rinnovo che sa da fare, di questo giocatore di Seicchio. Ogni volta che sento parlare di Brozovic, sembra che stai parlando di un misto tra Modric e Kroos. Cioè, onestamente, per carità, buon giocatore che talvolta dà buona uva, un equilibratore. Però ci sono anche partite, tipo il derby, in cui non lo vedi in campo, in cui fai fatica anche a capire in cosa si sostanzia. Io vedo diverse partite di Brozovic, non è che vedo sta pedina imprescindibile. Un altro vantaggio di un'applicazione di un 3-4-2-1, di sto cazzo di 3-4-2-1, veramente Inzaghi sveglia, perché il 3-4-2-1... Farò un video in cui vado ad elencare uno ad uno i vantaggi del 3-4-2-1, e giuro, mi cerco tutti i contatti di Inzaghi e glielo spedisco. Un altro sarebbe quello di rendere ancora più sacrificabile Brozovic. Perché se tu fai un bel 3-4-2-1, se Brozo va via, a fianco a Barella puoi mettere un elemento di fisicità, capito, che certo puoi sapere anche un po' impostare, magari un equilibratore, ma puoi andare a sostituirlo con un elemento di fisicità, un nuovo che sì, per esempio, che ti può costare anche meno, vai a cercare un giovane adatto sul mercato italiano ed europeo, e per me Brozovic sarebbe sacrificabilissimo. Con un bel 3-4-2-1 che esalta le mezze punte, che esalta le mezze punte, ok, e la difesa contemporaneamente, i cursori esterni, magari proprio quel Molina di cui si parlava, ma Brozo diventa sacrificabilissimo. Fa il centrocampo, Barella è un altro elemento di fisicità e sostanze, tu sei appustissimo e Brozovic te lo dimentichi. Io, vi dico la verità, tra Brozo e Perisic sono sempre stato molto di più una bimba di Perisic che di Brozovic, e i risultati mi pare che stiano anche evidenziando questo. Vediamo qui un discorso anche inerente al Milan, perché c'è questo discorso su che sì, io vedo molti milanisti, anche a ragione, esaltarsi per quello che potrebbe essere il centrocampo giovane dell'Inter l'anno prossimo, del Milan l'anno prossimo, cioè Tonali, Adli, Benasser, questo centrocampo di giovani leve, che verrebbe fuori con l'addio di che sì. Io vi dico, per carità, sono d'accordo con voi, ma Adli lo vedo più schierato nella linea della trequarti che dei mediani, e poi aggiungo anche un'altra cosa, visto che il Milan, a meno di clamorosi scossoni e devastanze, l'anno prossimo rifarà la Champions League, ha maggior ragione, puttacaso, che tu vinca anche lo scudetto, ecco, io penso che se che sì andrà via dal Milan, sia il caso di andarlo a sostituire con un giocatore anche di una certa sostanza, del tipo che va benissimo, la linea giovane che tu hai inaugurato, del fondo Elliot che sta dando buona uva, però ecco, se va via che sì, il Milan torna in Champions, magari ci torna anche vincendo qualcosa in Italia, penso che un bel acquistello di Robo Anza a centrocampo ci possa stare, oltretutto quest'estate mi prendevate in giro per Bernardeschi al Milan, è forse uno dei pochi che si sta salvando nella Juve attuale, sta facendo molto bene, quindi ricordatevi signori, ricordatevi, adesso mi sono fomentato, chi è che vi ha portato, chi è che ve l'ha portato, chi è che ve l'ha portato, chi è che ve l'ha portato, ebbene Faisandro, sempre io, quindi massima attenzione, e io dal mio scranno sentenziale, vi dico che, se va via che sì, sarebbe anche il caso di andare a prendersi un po' di Robo Anza, insomma, non dico Robo Anza, però ecco, se va via che sì, io al Milan vedrei bene un giocatore con una discreta esperienza europea, non troppo vecchio, ma nemmeno un giovane da svezzare e da lanciare, ma un giocatore che possa aiutare in Champions, al contempo anche lasciare un certo spazio e gli altri che ha in panca, adattandosi bene a Tonali, che poi è un po' il perno dell'attuale e soprattutto del futuro centrocampo del Milan. Qualche nome? Ma penso un Don Belé, penso un Renni Sanchez, perché no un Renato Sanchez al Milan, ce lo vedrei da Dio, pontatina della Madonna, connection con Lille e via dicendo, ma perché no andare a rompere le uova nel paniere alla Juventus, andando su un Chiuamini, che una certa esperienza europea già ce l'ha, perché no un Tolisso, misto, giovane da rilanciare con esperienze europee e via dicendo, o una portafogliata su Tilemans, perché no Tilemans, Don Belé, Renato Sanchez, Chiuamini, Tolisso, cinque nomi che vedrei bene in un centrocampo del Milan, con proiezione anche europea, per fare una Champions l'anno prossimo magari migliore di questa. Poi veniamo alla Juventus, allora si parla, si fa tutto un parlare di Vlaovic alla Juve, posto le difficoltà economiche per mettere, per imbastire l'operazione, ma vi dico anche di più, io non sono così convinto che Vlaovic i primi tempi con Allegri avrebbe vita facile, io me le vedo già le scene di Allegri che fa il ganzo dicendo non sei alla Fiorentina, qui devi imparare a difendere, qui gli attaccanti centrali fanno i difensori, devono fare i terzini e via dicendo con le solite solfe sue, che è abituato alla Fiorentina un po', non dico alla bambagia, però insomma c'è una squadra che gioca per lui, lui è uno che si sbatte spesso, che torna indietro, che lavora per la squadra. Però ecco, io non mi stupirei se poi Vlaovic alla Juve avesse qualche problemino iniziale di inserimento, anche per il carattere che ha a volte, e quindi non sono così convinto di dire, poi sicuramente emergerebbe perché le qualità sono indubbie, però ecco non è un matrimonio che mi convince alla grandissima, almeno nel breve termine, così come non mi convince quello con i Cardi, non perché sia scarso, perché i Cardi comunque si è messo in una situazione di gioco, anche con Allegri per certi versi potrebbe anche fare bene, ma perché mi sa del solito affare di ribollita europea, di un team che prende sempre gli scarti o gli avanzi delle squadre di alto rango europeo, come hai fatto con i Kedira, come hai fatto con i Danilo e via dicendo, poi se va bene va bene, e se va bene i Ramsey, mi sembra il solito affare da Juve mediocrella che si accontenta, no, anche la Juve, torni a fare del mercato intelligente, torni a fare delle scoperte, torni a prendere, come è stato fatto con McKennie per certi versi, torni a prendere della gente che viene lanciata in casa, i Pogba, gente non arrivata o che è già bollita o che ha già dato, prendi fiori, gente in fiore, gente che può aggiungere anche inerzia alla squadra, non gente che ha già dato, e qui i nomi signori che vi faccio sono tre, vi faccio un Wegorst, Wegorst alla Juve, ce lo vedrei bene perché è un attaccante moderno, è valido soprattutto in vista anche di un possibile cambio di allenatore, magari con un gioco un po' più legato, io mi immagino un Wegorst con un Tuchel o un Gasperini, un bel 3-4-2-1 con Wegorst punta centrale, considerando che comunque c'è anche Caio Giorge, che a me piace moltissimo, non mi piace Morata, che non so se riscatterei o riscatterei solo a condizioni ultra vantaggiose, però un Wegorst alla Juve, in vista di una Juve più europea, di una Juve più anche moderna, con un cambio allenatore, ci starebbe bene, ma anche con Allegri tutto sommato, però specialmente con un cambio allenatore e cambio modulo, una Juve europea con il 3-4-2-1, tucheliano o gasperiniano. Un altro giocatore che potrei vederci bene è Majoral, Borca Majoral alla Juve, sarebbe un po' un Chad Morata, un Chad Morata, magari lo fai anche lavorare dal punto di vista fisico, lo fai un attimo ingrossare, intorellare, Majoral alla Juve più di un Villar, che con Allegri onestamente non è che mi vedo molto, perché è un altro Murigno, ma Majoral potrebbe essere un attaccante che tu vai a prendere a basso costo, che rilanci, che può veramente garantire un'efficacia alla Juve, buona eh, Majoral alla Juventus a gennaio, potrebbe essere un ottimo colpo, io me li vedo già i titoli, che glorificano l'acquisto di Majoral, comprato per due lire, e che inizia a segnare ogni partita, Majoral alla Juve potrebbe avere un ottimo rilancio, nel presente e nel futuro, anche con Allegri, quindi Weghorst, Majoral, e poi vengo al terzo signori, che ha una proiezione difficile, ha una proiezione soprattutto estiva, ma è il nome, è il nome, inutile girarci attorno, è il nome signori, per l'attaccante, per il ponteros della Juve, Lukaku, Lukaku, specialmente con Allegri, Lukaku ha problemi con le bighe, in certi contesti europei di spicco, così come li ha la Juve, e meno per meno fa più, un problematico con una squadra problematica, quando diciamo le cose si fanno dure, meno per meno fa più, puoi fare pat col Chelsea, magari mettendo dentro dei giocatori, da Ramsey, Arabio, McKennie, o quelli che interessano al Chelsea, e via dicendo, ovvio che deve essere un qualcosa, che va in porto, se Lukaku fallisce clamorosamente, puttacaso che Lukaku continui, in questa sua lena, di gioco non gioco, non rendo, rendo al Chelsea, e inizia a diventare un affare chiacchierato, un affare discusso, Lukaku inizia ad entrare nel suo loop britannico di non resa, magari a maggio-giugno, può venire voglia anche a lui, di tornare in un campionato, dove può fare la voce del padrone, come diceva Battiato, torna in Italia alla Juventus, perché no? con del pat, tra Chelsea e Juventus, cercando di salvaguardare, quello che è stato l'investimento del Chelsea, ma il ritorno, Lukaku per Allegri è perfetto, squadra che gioca di contropiede, lui che può partire dal basso, dalla sua area, la vera costruzione dal basso, è il catenaccio di Allegri, perché parti veramente dal basso, lui con la sua potenza fisica, quando in forma, può puntare alle aree avversarie, è il classico giocatore, per andare a devastare con le piccole, come fa la Juve quando vince gli Scudetti, come fa qualsiasi squadra quando vince gli Scudetti, Lukaku alla Juve signori, puoi giocare con il 4-4-2, mettergli un'altra punta, che può essere come era Lautaro all'Inter, puoi anche giocare con un 4-3-3, come cazzo vuoi, tanto voglio dire, per me Lukaku con il gioco di Allegri, sarebbe perfetto, si arrangerebbe quasi lui a fare tutto, certo non è facile dal punto di vista economico, perché deve, vi ripeto, per concretizzarsi sta cosa, deve fare schifo al Chelsea Lukaku, a livelli inenarabili, lui deve essere attratto dall'offerta della Juventus, ci può essere del parola, ragazzi il nome è quello, il nome è Lukaku, Lukaku sarebbe la perfezione, lo dico, lo dico, se Lukaku va alla Juve divento lukachiano, perché sarebbe perfetto, perché sarebbe perfetto, Lukaku, Lukaku si, quindi i nomi che gli vado a dare, sono Weghorst, un po' ipotesi, la pontatina radical chic, per una Juve europea, giochista, magari con cambio allenatore, Borca Majoral, detto al Morata 2.0, molto, una pontatina a cortomuso, una pontatina a cortomuso, giocatorino che paghi poco, ma che avrebbe una massima resa, un po' come Belotti all'Inter, la terza è la devastanza finale, Lukaku, è perfetto, ragionateci, Lukaku alla Juve con Allegri, è perfetto, Lukaku è un giocatore da Juve, Lukaku alla Juve è perfetto, quindi questi sono i nomi che vi faccio, questa è la sintesi calciomercatistica, che vi vado a dare, nei prossimi giorni, mi ero fatto anche un mio, una mia scaletta, vorrei farvi un video, nel quale vi spiego, che cosa penso della diatriba, giochismo, non giochismo, se io sono un giochista, se sono un non giochista, cortomuso contro Belgioco, la mia idea da questo punto di vista, volevo farvi, e poi vi ripeto, guardatevi i video fatti, e vi segnalo quelli che sono gli appuntamenti, ve li risegnalo, quelli che sono gli appuntamenti per la comunità abbonizia, mercoledì ore 21, per abbonati base, ci sarà la live di Catufologia, per andare a parlare di questo libro del buon Vincenzo D'Amico, ma anche per poi affrontare altre tematiche, sempre in ambito catufologico, assieme a voi, poi giovedì alle ore 18, per abbonati intermedi, invece uscirà un nuovo episodio di Catto Cinematografia, nel quale vi darò 5 consigli cinematografici di film, proprio di quelli che piacciono a noi, diciamo un po' strani, di nicchia, di nicchia, ecco, cinematografia di nicchia, ma che vi farà crescere, che vi gaserà. Un caro saluto.